club ci serve per ricoprire delle piccole circonferenze e poterle lavorare in tondo vi farò vedere come eseguo questo magic club partendo veramente da pochissime maglie quindi da otto maglie avvio otto maglie dopodiché divido queste otto maglie in 44 quindi quattro maglie e quattro maglie faccio slittare le maglie sul cavo e faccio in modo semmai anche con l'aiuto di del ferro di estrarre una solina di cavo in modo da suddividerla in due parti uguali dopodiché sposterò tenendo le punte in parallelo verso destra sposterò tutte le maglie sui ferri metterò i ferri in parallelo e farò in modo di avere il ferro con il filo attaccato dietro quindi questa è la posizione abbiamo quattro maglie davanti quattro maglie sul ferro posizionato dietro il filo lo terremo sopra il ferro che abbiamo verso di noi e per poter lavorare sfideremo il filo il ferro dietro lo porteremo in avanti teniamo vedete io tengo sempre un po il cavo attaccato al ferro in modo da non creare degli spazi nella lavorazione a questo punto tenendo appunto un po un po attaccato il cavo in questa prima fase con il ferro vado a lavorare la prima maglia a dritto quindi entro nella maglia dritto e lavoro la prima maglia attaccatevi bene al cavo quindi al set di maglie che sono sul retro lavoriamo una maglia nel caso della io adesso sto realizzando la knitted for corner bag di julie bisenberg mi dice di mettere un marca punto e io lo inserisco dopodiché mi dice di lavorare inserendo i marca punti per cui io inserisco giusto per farvi vedere poi come farò gli aumenti però la lavorazione questa finisco il mio set di maglie che sono diciamo le quattro maglie che avevo sul ferro verso di me a questo punto giro il lavoro quindi giro proprio la punta del ferro su cui ho le maglie tiro il cavo in dentro in modo da inserire le maglie all'interno del ferro che posiziono sul davanti faccio in modo di inserirla dopodiché riparto con lo stesso a lavorazione di prima quindi il filo che ho sulle maglie vedete questo è il set di maglie che ho appena lavorato che sono le maglie dietro il filo è attaccato al ferro che ho sul retro anche qui estraggo la punta latino un po verso l'esterno e riprendo a lavorare sulle maglie che ho sul ferro verso di me quindi da qui punto e lavoro ok adesso diciamo il lavoro continua così il mio inizio giro e qui al margine ricordiamo cielo ma diciamo che abbastanza evidente perché abbiamo la codina nell'inizio giro proprio qui per cui sappiamo che l'inizio giro e qui non mette il marco appunto perché altrimenti mi volerebbe giù continuo con la lavorazione e poi diciamo che per praticità potreste a un certo punto quando perché adesso si aumenterà ricordatevi sempre il filo sopra e man mano si aumenterà per cui io preferisco sempre poi spostarmi le maglie in modo tale da poter mettere un marco appunto il marco appunto di inizio giro e non dovermi ricordare dove all'inizio giro perché potrebbe essere qui o potrebbe essere da quest'altra parte finché ho la codina vicina mi rendo ben conto di dove mi trovo però per praticità preferisco poi spostarmi per cui adesso praticherò degli aumenti e poi vi farò vedere come sposto il marco appunto di inizio giro in modo tale da poterlo inserire adesso mi trovo con un numero di maglie tale da poter mettere un marco appunto di inizio giro quindi semplicemente inserisco il marco appunto di inizio giro lavoro una maglia ancora una dopodiché faccio in modo lavoro quindi due maglie dopodiché slitto tutto il ferro lo tiro in fuori in modo tale da riallineare le due maglie sull'altro set di maglie anche se il numero poi appunto non è esattamente uguale quindi come di partenza in cui avevamo diviso le maglie in parti uguali non è un problema questo mi permette ora vi farò vedere continuando ad eseguire il medico di avere un marca punto di inizio giro che mi segnala dove inizia il giro è sistemato in modo tale da non sfuggirmi dai cavi sono arrivata al mio inizio giro quindi passo il marco appunto di qua e le maglie le ultime due maglie su questo ferro di sinistra che stavo lavorando saranno quelle del giro successivo ecco qua che pian piano il nostro lavoro cresce